E' ormai da tanti definita una giunta in crisi permanente, la cui unica prospettiva è la sopravvivenza nell'immediato. Ormai da un anno, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maurizio Brucchi infatti, viene attaccata non solo dall'opposizione ma anche dai cittadini. A cominciare dal Partito Democratico, guidato da Gianguido Dalberto, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incapacità totale, definendo la giunta senza progettualità di lungo periodo, questa volta interviene sulla polemica tra commercianti e comune, circa lo stallo dei lavori sul Corso San Giorgio. Dalberto accusa l'amministrazione di aver tentato maldestramente di far ricadere ogni responsabilità sulla sovrintendenza, tentativo impietosamente naufragato durante la manifestazione dei commercianti, alla quale ha preso parte solo l'assessore lavori pubblici Franco Fracassa. Grave inoltre per il PD l'assenza del delegato al commercio, l'assessore Roberto Canzio, sintomatica del fatto che, al cospetto di una giunta incapace di dare e darsi un indirizzo e una coerenza politica, ciascun componente pensa solo al proprio orticello. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, il consigliere Fabio Berardini, che oltre ad accusare l'amministrazione Brucchi di incompetenza, dice basta con l'agonia, con un consiglio comunale che non viene convocato da mesi a causa dei litigi interni della maggioranza. Basta i ricatti per raggiungere una poltrona o un incarico nella partecipata. chiede al sindaco di rassegnare le dimissioni invece di rimanere a galla tra i ricatti incrociati di Gattiani, Dodiani e D'Alfonsiani. In ultimo il consigliere Berardini chiede pubblicamente una smentita da parte del PD circa le indiscrezioni uscite quest'oggi sulla presunta cena tra Paolo Tancredi, Dodo Di Sabatino e Luciano D'Alfonso, nel corso della quale si sarebbe indicato proprio Dodo Di Sabatino come candidato sindaco del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali. Tornando alla questione di Corso San Giorgio, dopo la clamorosa protesta con tanto di catene, presidio e cartelloni, i commercianti lanciano una petizione e in due giorni raggiungono le 900 firme. Il presidio permanente al centro del maxicantiere continua fino a quando, hanno specificato gli esercenti, i lavori non riprenderanno materialmente. L'atteso incontro con la sovrintendenza, che servirà a sbloccare il cantiere, e a indicare le prescrizioni che il Comune dovrà seguire per salvaguardare i resti dell'acquedotto romano che sono stati rinvenuti durante i lavori di scavo, è previsto per martedì 11 ottobre.